L'Inps di Agropoli resta aperta grazie all'intervento dell'amministrazione Coppola. Gli uffici dell'Agenzia Inps di Agropoli si trasferiranno dai locali di via Riviera Antonicelli 1 a quelli siti in via Alcide De Gasperi 84, nelle adiacenze della stazione ferroviaria. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, affirma il Sindaco Coppola, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel conseguire obiettivi di risparmio della spesa e nel quadro generale di riassetto degli uffici territoriali, alcuni mesi fa aveva programmato la chiusura dell'ufficio territoriale Inps di Agropoli per accorparlo a quello di Eboli. Tale chiusura avrebbe comportato notevoli difficoltà alla popolazione residente e non solo, che quotidianamente si servono degli uffici. Per questo motivo ci siamo prontamente attivati e al fine di scongiurare la chiusura abbiamo reperito una nuova sede, più piccola della precedente, in una zona ben servita e collegata, munita di parcheggio, della quale l'ente si accollerà le spese del fitto, come già avviene per gli altri uffici, come l'Agenzia delle Entrate, l'Ufficio del Giudice di Pace. Tutto conclude Coppola al fine di evitare difficoltà alla popolazione, che avrebbe dovuto incorrere in disagi notevoli per raggiungere la sede Inps di Eboli, con la quale era previsto l'accorpamento.